Perché voglio dire, continuare a vincere senza Simen e con Quara che oggi non è stato brillantissimo, diciamo come altre volte, non è semplice. Quali sono, secondo lei, le note più positive e anche le cose ancora da sistemare, visto che quando si vince poi è più facile anche lavorare? Prima di tutto è un derby, quando è un derby le posizioni contano molto di meno. In un derby può succedere di tutto. Noi avevamo o tutto da perdere o poco da guadagnare, a parte il risultato, i tre punti, eravamo venuti per questa cosa. Eravamo anche venuti per segnare nel primo quarto d'ora, che non ci è successo dall'inizio della stagione in campionato. Per fortuna per i ragazzi, per alcuni minuti ci siamo riusciti. E poi mi è piaciuto il gioco di prima in movimento, triangoli, poi potevamo forse fare un po' di scelte migliori davanti. Però abbiamo trovato anche un portiere che ha fatto parate importanti. Primo tempo su Raspadori, secondo tempo su Zierinski, poi Politano che trova il palo. E poi siamo stati bravi a spingere ancora per chiudere la partita, perché finché non hai fatto il secondo gol, può succedere di tutto. Un gol fortunato, gioco lungo di avversario, queste cose qua. Quindi bravi a almeno fare il secondo gol, anche se era possibile farne di più oggi. Però va bene così, adesso aspettiamo i risultati degli altri. Abbiamo fatto il nostro e soprattutto testa a mercoledì Champions League. Buonasera, è una vittoria che dà anche un po' più di tranquillità. A chi? A lei, alla squadra. Ma per niente. Siamo tranquilli, siamo sereni. Io mi trovo benissimo e meglio di giorno in giorno, sia nella città sia con i giocatori. E noi siamo concentrati dall'inizio della stagione. Sappiamo che abbiamo giocatori forti, siamo una squadra forte. L'unica cosa da fare è dimostrarlo sempre in campo. Sì, eccomi, sono qui. Salve. Vorrei chiederle se è soddisfatto della prova, della fase difensiva della squadra che non ha subito. Sì, perché è una prova collettiva. Non è solo il portiere, solo le quattro di dietro. È tutta la squadra. Dopo l'1-0, durante dieci minuti, si poteva fare meglio nel gioco complessivo. Attacco e uscire da dietro e difendere forse un po' di più. Però alla fine Alex Meret ha passato una serata tranquilla. Vuol dire che la squadra ha difeso bene. Di Lorenzo con molta onestà ha detto poco fa non ci sono problemi ma qualche volta abbiamo reso sotto il nostro livello. Intanto, cosa occorre ancora per raggiungere il livello di questa squadra? Non dico neanche Massimo, ma il livello che merita questa squadra. No, niente, sto pensando, faccio solo una riflessione personale. È solo per me. No, no, per niente. Però è buffo. Scusate che non ve la faccio condividere. Che possiamo migliorare? Essere più continuo? Penso come lo siamo stati oggi e in tutte le partite. Champions, campionato. Però non abbiamo sbagliato nessuna partita intera. E poi siamo stati poco pagati su alcune gare. Penso a Real Madrid in casa. Anche nel secondo tempo contro il Milan era possibile vincerla. E quindi siamo sulla strada giusta. C'è solo da vincere mercoledì e mettersi in buona posizione in Champions League. Ancora migliore. Ultima, Paragma Magazine. Buonasera, mister. Paragma Magazine, Enzo Guariglia. Volevo chiederle una cosa. Se è stato agevole, facile vincere così, con 2-0, oppure ha trovato a un certo punto una resistenza abbastanza coriace da parte della Salernitana. Chi ha un po' di esperienza sa che nei derby non c'è più questione di classifica. Non esiste più questo. Non può succedere di tutto. Il fatto che non fosse l'ultima in classifica non contava più di tanto. No, per niente. È un ambiente ostile qua. È giusto che sia così per un derby. Spero che sia andato tutto bene tra i tifosi fuori stadio e dentro stadio. Sembra di sì, quindi tutta questa ostilità alla fine. No, bene. Così deve essere il calcio. C'è una cacchierata solo noi due, se no. No, no. Un derby si vince, abbiamo fatto. Grazie a tutti. Grazie.